Perché poi bisognerebbe comprendere la pazzia, secondo me già di per sé la pazzia anche secondo noi, la follia, la pazzia da un certo punto di vista è salutare, perché se io esco da quel blocco di cui abbiamo discusso prima in cui diceva se io sono destinato alla mia vita, alla mia esistenza, ad altro, però per convenzioni sociali, per familiarità, per tradizione, io devo vivere l'esistenza perché devo andare a lavorare, devo studiare, poi dopo la laurea devo andare a lavorare, devo andare all'impiegato e poi devo sposarmi e poi già ho tre figli, però non è quella la vita alla quale io sono destinato perché io come essere umano ho dei desideri, delle esigenze e lì si crea un blocco, la follia potrebbe essere l'elemento che sblocca la situazione, quindi comprendere la crisi, comprendere la follia è una possibilità, è un'opportunità, noi ci poniamo anche il problema di integrazione, ma do integramma? In che mondo andiamo a integrare? In un mondo che vuole omologare?